Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Grande entusiasmo e curiosità a Fontana Rosa per l'inaugurazione del quinto simposio internazionale di scultura Fontana Rosa Arte Pietra. 15 giorni di eventi dal 4 al 18 maggio, durante i quali artisti di fama internazionale realizzeranno opere d'arte, essendo chiamati a lavorare e plasmare semplici blocchi di pietra di Fontana Rosa. Grande soddisfazione per l'iniziativa nelle parole del sindaco Giuseppe Pescatore e del direttore artistico Silvio Cosato. Con grande orgoglio e con grande emozione che oggi diamo in via a quella che è la parte operativa del simposio Arte Pietra. Ma perché il simposio della pietra? Perché la lavorazione della pietra pone le sue origini nel passato, nell'arte degli scarpellini della nostra terra che estraevano proprio la pietra dalle cavi presenti sul nostro territorio. La lavoravano e questa tradizione è stata tramandata da padre a figlio di generazione in generazione. Quindi la pietra entra di diritto prepotentemente nella tradizione del nostro paese. Quindi le tradizioni, i valori fondamentali sono stabiliti e tramandati di padre e figlio, di madre e figlia come se fosse un cognome, una proprietà e diventato un vero e proprio stile di vita, duraturo e virtuoso. La pietra è espressione, essenza e l'anima del nostro paese, l'elemento in cui il nostro piccolo borgo si identifica. Sono 20 anni che a Fondaroso mancava un appuntamento di questo tipo. Noi essenzialmente ci siamo mossi per portare avanti questa grande tradizione della pietra, per ritornare alla capitale della pietra e abbiamo chiamato questa volta con uno sforzo maggiore, grazie ai finanziamenti anche della regione Campania, con un progetto fatto in sinergia, con tutte le forze e con un'amministrazione sensibile, abbiamo rimesso a centro la scultura, gli artisti. E quindi questa volta, oltre ad avere una sezione italiana, ci siamo spinti a chiamare anche delle esperienze dei ragazzi che ci porteranno il loro contributo di arte e la loro testimonianza. Il tutto per farlo diventare poi, nell'arco del tempo, un progetto in etinere che si evolve e che diventa arredo urbano per il paese.